Salve, sono Urbano della Sani Moreno con svaghe Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di quest'Alfa Romeo Vito ed è un 1.4 di cilindrata benzina 86 cavalli dell'anno 2016. Una particolarità di questa vettura è che può essere guidata dalle ragazze e ragazzi neopatentati. Quindi un'ottima vettura, bellina, sportiva, moderna per incominciare a guidare. Adesso andiamo anche a vedere i particolari della nostra vettura. Intanto di questo bel colore diciamo nero metallizzato che dà leggermente sul colore bordeaux. Molto bella, brillante. Qualche graffiettino da macchina usata ma niente di così. Gravoso la macchina è veramente bella da vedere all'esterno. E passiamo anche agli accessori della nostra vettura. partiamo da cerchi in lega da 16 pollici con gomme da quattro stagioni sempre perfette come battistrada quindi tutte tutte da sfruttare. Siamo adesso all'interno della nostra auto e andiamo a vedere com'è composta. Pannelleria degli sportelli anteriori molto bella, cruscotto molto bello. Infatti le plastiche non ci sono graffi non ci sono usure quindi sono belle lucide ripeto molto bella da vedere. La nostra auto ha cambio manuale a cinque marce, climatizzatore manuale, radio con il cd, bluetooth con il viva voce molto importante nella nostra guida. Volantino multifunzione con i tasti per lavare per le regolazioni sempre per le telefonate e sulla sinistra per lo stereo. Abbiamo anche il pulsante per la per il comando vocale anche questo molto importante per non distogliere mai le mani guida. 69.756 chilometri. Tutti tagliandati dal precedente proprietario quindi è un chilometraggio certificato e naturalmente una vettura controllata sempre molto bene sotto anche il profilo della meccanica. Tappezzeria interna di questo bel colore nero tutta in tessuto e come potete vedere si presenta sempre in un modo eccellente bella e pulita pulita perché come il nostro solito le nostre vetture usate le tappezzerie delle nostre vetture usate vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. Il risultato è l'avere un interno vettura quindi un abitacolo pulito accogliente e profumato quindi molto molto bello e anche il vano bagagliaio come potete vedere bello ampio con il suo sedile sdoppiato per la possibilità di ampliare la possibilità di carico anche questo bello e pulito perché ha avuto la stessa lavorazione della tappezzeria anteriore quindi lavaggio e igienizzazione a vapore. Sotto anche il nostro pianalino abbiamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Passiamo anche alla meccanica come potete vedere anche il vano motore è bello da vedere pulito con tutti i suoi componenti al loro posto. I componenti al loro posto ci sono perché le nostre vetture usate prima di essere messe in vendita vengono comunque sottoposte ad un controllo presso il nostro service come seguendo una checklist multicontrollo interna nostra e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente cioè la vettura viene controllata nel suo totale e deve essere completamente funzionante cosa che naturalmente vi sarà spiegato poi in sede. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità tra l'altro per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno anche questi spiegati in sede nel caso ce ne fosse il bisogno. E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a a fare un giro di prova su strada e adesso siamo all'interno della nostra auto e partiamo intanto la prima cosa da dire è proprio l'accoglienza dell'abitacolo pulito profumato quindi come si dice stiamo in macchina veramente in un modo eccellente e partiamo a capire le parti meccaniche pedale della frizione morbido nel suo funzionamento ottimo stacco e quindi anche il cambio ha un ottimo funzionamento preciso nell'innesti delle marci non ci sono non ci sono giochi la vettura tra l'altro anche come assetto va molto bene perché va dritta su strada volante dritto scatola di guida in questi incroci la sento precisa senza nessun tipo di gioco quindi guidabilità generale veramente ottima andiamo a capire anche il lavoro delle nostre sospensioni in questa classica strada con le buche ebbene sentiamo sì naturalmente il loro lavoro ma all'interno abitacolo è veramente silenzioso quindi torno a dire un'ottima vettura naturalmente avendo 69 mila chilometri è una vettura ancora tutta da sfruttare è completamente funzionante perché già controllata quindi ragazzi e ragazze neopatentati è pronta per essere acquistata e naturalmente guidata un'altra cosa importante ve la possiamo presentare anche in anteprima come con una videochiamata con un whatsapp e quindi ve la possiamo spiegare proprio in ogni suo singolo particolare visto che se siete lontano in un primo momento impossibilità di avvenire ripeto ve la possiamo proprio presentare in anteprima passiamo alla meccanica è il classico motore diciamo derivato fire della fiat è un 1.4 85 cavalli è un motore generoso tranquillo perché naturalmente è fatto apposta per i neopatentati e quindi è un motore veramente come proprio la parola giusta tranquillo molto bella da guidare impostazione un pochino sportiva e giovanile dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni